Soverchio stile, soverchia eleganza! Benvenuti poveracci! Benvenuti nella mia arrogante e lussuosa residenza di Torino. Sono qui oggi per spiegarvi un increscioso fatto accaduto questo sabato durante lo show della Viva a Reggio Emilia. Bene, a quanto pare il presidente non ha dato al miglior lottatore italiano lo spazio che si meritava. Spazio che ovviamente io mi sono dovuto prendere. Difatti oggi il titolo italiano della Viva è nelle mie mani! Esatto, presidente! E tu lo sai bene e sai anche bene che hai solo due occasioni in questo momento. O sabato 27 febbraio, al prossimo show a Reggio Emilia, mi dai quello che mi spetta, ovvero un match contro il tuo campione Claudio Campari! Mi viene schifoso il vomito solo a nominarlo! Oppure troverai una bella asta su ebay che mi ripagherà delle mie prossime sigarette d'oro! E tu, Claudio Campari, povero ciccione dalle chiappe vizze, preparati perché nulla potrai contro il miglior lottatore di wrestling in Italia! E continua pure a sognare, tanto non te lo puoi permettere!